Ciao ragazzi, siamo dei ricercatori dell'ISPRA che partecipano ad un progetto di ricerca chiamato Bargain. Il progetto si occupa di Posidonia spiaggiata. Vediamo un po' quanto ne sapete sull'argomento. Guardate queste due foto, sono due spiagge molto diverse. Quali preferite? Dove vi fareste il bagno? Qui o qui? Però ragazzi fate attenzione perché si sa l'apparenza inganna. Quella che molti di voi avranno scelto perché sembra una spiaggia paradisiaca è in realtà un posto molto inquinato in cui c'è il divieto di balneazione. Quella che invece sembra una spiaggia sporca e apparentemente poco invitante si trova all'interno di un parco nazionale ed è un posto bellissimo. Cari ragazzi, sapete che cos'è la Posidonia oceanica? È una vera e propria pianta sottomarina anche se spesso viene confusa con un'alga e proprio come le piante terrestri perde le foglie. Potete immaginare dove vanno a finire queste foglie quando ci sono le mareggiate. Secondo voi i resti della Posidonia sulla battigia sono un rifiuto o possono essere considerati una risorsa? cosa vi viene in mente se vi dico spiaggia ecologica? Volete sapere come è fatta? Guardate questi video!